Giorgia Meloni ad Acqualagna per l'accordo di coesione per le Marche. Allerta vento arriva un venerdì da Bollino Arancione. Sicurezza sul lavoro, premiate le 5 migliori aziende marchigiane. Carrier day a Urbino, aziende laureati capolavoro. Alla scoperta del terzo itinerario archeologico di Pesaro Urbino. Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV. Ben ritrovati sul canale 80, ben ritrovati su Rossini News. Il nostro telegiornale che in questa edizione di giovedì 26 ottobre apriamo occupandoci della imminente visita della premier Giorgia Meloni nel nostro territorio. Visita prevista sabato 28 ottobre in occasione dell'apertura della 58esima fiera del tartufo bianco di Acqualagna. Occasione nella quale la Presidente del Consiglio ufficializzerà l'accordo di coesione che porterà 330 milioni di euro di investimenti sulle Marche. Ci sarà anche Giorgia Meloni sabato 28 ottobre all'apertura della 58esima fiera del tartufo bianco di Acqualagna. La premier arriva nella città di Enrico Mattei, storico fondatore dell'ENI, già preso ad esempio dalla Presidente del Consiglio per l'omonimo Piano per l'Africa formulato dalla stessa Meloni un anno fa. La visita ad Acqualagna alla presenza del Governatore Acquaroli porterà con sé l'ufficializzazione dell'accordo di coesione fra le Marche Palazzo Chigi, un accordo che sarà firmato anche alla presenza del Ministro Raffaele Fitto. Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è un fondo nazionale in cui vengono attuate politiche e investimenti che tentano di riallineare gli squilibri economici e sociali fra i territori. Le Marche saranno la seconda regione a beneficiare di questo accordo dopo la Liguria. La regione di Toti beneficiò di 265 milioni di euro, le Marche ne riceverà una cifra superiore, 330 milioni soprattutto destinati ad opere infrastrutturali strategiche di carattere interregionale che spazieranno da strade ad ospedali. Una notizia positiva per le Marche ed una visita che colma d'orgoglio Acqualagna e la sua fiera alle prese con l'organizzazione e le misure di sicurezza di una visita che dovrebbe svolgersi nella tarda mattinata di sabato. Ed ora vi informiamo che la protezione civile delle Marche ha emesso un bollettino d'allerta arancione per forti raffiche di vento in tutta la giornata di domani e in tutte le province per quanto riguarda appunto il venerdì 27 ottobre. Allerta che scatta dalla mezzanotte di questa sera per intensi flussi soddoccidentali con raffiche che potrebbero raggiungere anche i valori di burrasca. Per la seconda mattinata consecutiva i vigili del fuoco di Pesaro sono dovuti intervenire per incendi ad auto alimentate a GPL. Ieri è accaduta a Borgo Massano come vi abbiamo mostrato nel nostro Tg, questa mattina ad Osteria Nuova di Monte Labate in via Spadolini dove in piena zona residenziale il rogo ha interessato anche un'auto limitrofa. E non si ferma la battaglia contro l'indiscriminata installazione di antenne di telefonia nel territorio di Pesaro. Fra le più discusse c'è senz'altro quella che è stata installata mesi fa a Fiorenzuola di Focara che pare destinata a rimanere dov'è, ma intanto quartiere e parco si battono per evitare il proliferare di nuove installazioni. Dal piano che ci è stato presentato dalla Polab l'antenna attualmente non può essere rimossa, non è prevista la rimozione dell'antenna, logicamente è una situazione che non ci accontenta minimamente, ci batteremo in tutto e per tutto perché ciò avvenga, non può rimanere un obbrove del genere all'interno di un'area naturalistica in aderenza ad un centro abitato come quello di Focara e quindi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per far sì che questa venga in qualche maniera rimossa e comunque mitigata. Io rammento che quando ero all'interno del Consiglio del Parco, a parte il parere totalmente negativo, ma purtroppo comanda la legge nazionale, noi avevamo spesso parere negativo, ma ci avevano presentato un'antenna che sembrava quasi un cipresso, quindi completamente inserita all'interno di quello che è il paesaggio naturale del Parco. Poi dopo, alla fine invece è arrivato questo cotton fioc e anche lì è stato in qualche maniera presentato un rendering che un tecnico in prima battuta se ne accorge, uno che fa l'amministratore, fa un più fatica, dove addirittura sembrava più bassa dei pali della luce, antistanti il parcheggio che sono all'interno del parcheggio di Fiorenzuola di Focara. Ecco, non è un modo corretto di presentare, secondo me, queste tipi di richieste di installazione, quindi noi faremo di tutto per batterci, per la rimozione dell'esistenza. Quello che però è importante adesso in questa fase, che nel piano 2023, nell'ipotesi di studio che ci sono su Fiorenzuola, ci sia una netta presa di posizione della sovrintendenza, che deve essere totalmente contraria all'installazione di nuove antenne, come del resto lo siamo noi, sia io come consigliere di maggioranza, quindi rappresentante della lista civica del Faro, che il quartiere, che la comunità del Parco, totalmente contraria all'installazione di nuove antenne, sia sul San Bartolo, tutto il San Bartolo, e che nel Preparco, quindi anche nelle aree in aderenza a San Bartolo stesso. Ci devono trovare altri punti, che siano anche dal punto di vista tecnico più funzionali alla copertura del territorio, nel rispetto e nella tutela sia della parte paesaggistica che delle realtà storico-culturali e soprattutto tramite il discorso dell'inquinimento elettromagnetico a salvaguardia di tutti i cittadini. Cinque aziende delle Marche, una per ogni provincia, sono state premiate questa mattina nella sede della Regione Marche per il loro particolare impegno nell'anno appena trascorso relativo alla sicurezza sul lavoro. Investire in una maggiore tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, migliorare la cultura della prevenzione dei rischi, sperimentare buone pratiche, integrative e migliorative anche al di là degli obblighi previsti per legge. Queste le finalità del Premio Sicurezza sul Lavoro 2023, promosso dalla Federazione Nazionale Maestre del Lavoro delle Marche e dalla stessa Regione Marche. Sicurezza sul Lavoro che nell'ultimo anno ha visto distinguosi in particolare cinque aziende, una per provincia, meritevole del premio assegnato oggi, alla RBM Tech di Fano, all'Eurotecnica di Osimo, alla FAPI di Montelupone, alla Dami di Sant'Elpidia Mare, alla Panicchi di Ascoli Piceno, più un premio speciale assegnato alla Buffarini di Falconara. Riconoscimenti applauditi dall'assessore regionale Aguzzi. Magari spesso passo un po' sotto traccia, in questa situazione si parla spesso di crisi aziendali, si parla di ripresa, si parla di investimenti e non sempre si parla di sicurezza sul lavoro, che accompagna invece tutto questo percorso e lo accompagna spesso in maniera purtroppo molto dolorosa, con molti incidenti. Seppur c'è, e questo non ci deve consolare, però c'è una minore incidenza sui nostri territori, anche nella regione Marche, c'è un calo di incidenti, però comunque sono ancora purtroppo numerose. C'è anche un aumento di alcune malattie professionali, quindi non va assolutamente abbassata la guardia. Con grande soddisfazione vediamo che c'è un riscontro a questa iniziativa perché la sicurezza del lavoro è molto importante. Poi se si tiene conto quello che leggiamo in questi ultimi periodi sulla stampa degli incidenti mortali sul lavoro, c'è da rabbrividire. Per cui noi sollecitiamo sempre di più la massima attenzione appunto alla sicurezza sul lavoro. Altra premiazione avvenuta invece oggi a Palazzo Ducale di Urbino è quella dei cosiddetti capolavori d'Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino. Carlo Bo, premiazione avvenuta oggi nell'ambito del Career Day 2023. Si tratta di ex studenti affermatisi poi nel loro rispettivo campo di lavoro e divenuti oggi modello per gli studenti laureandi attuali. Parleremo di questo e del Career Day in uno speciale dedicato che andrà in onda la prossima settimana e realizzato dal nostro Paolo Pagnini del quale vi anticipiamo alcuni concetti in questo servizio. Oggi Career Day, una giornata che include sia la consegna, l'attribuzione dei prestigiosi capolavori d'Ateneo agli studenti che dal passato diventano il presente di oggi e qua invece alla Sala del Trono gli studenti che oggi sono il presente ma che pensano al loro futuro. Insomma veramente un percorso completo per l'Università. Volevo prima di tutto ricordare che questa è la seconda edizione del 2023, l'altra si è tenuta a maggio, sempre qui anche a Palazzo Ducale. Queste due iniziative e soprattutto la loro partecipazione sia da parte del mondo delle imprese che da parte dei nostri laureati o laureandi dimostra una vivacità e una capacità anche da parte del settore produttivo di cogliere le occasioni di assumere dei profili maturi per entrare nel mondo del lavoro e questo mi fa molto piacere. E poi ecco, c'è stata questa consegna dei diplomi agli studenti capolavoro, uno per ogni dipartimento. Sono dei testimonial, sono forse lo strumento più efficace per far capire ai nostri studenti che anche ad Urbino insomma grazie al loro impegno e al nostro impegno e al loro impegno e al impegno degli studenti e al nostro impegno si possono raggiungere non ci sono limiti per raggiungere i propri sogni almeno dal punto di vista professionale. Il mio percorso scolastico è stato veramente eccellente e soprattutto lo rifarei sin da adesso. Quello che posso trasmettere agli studenti che ho quotidianamente è la grande passione, il grande senso di curiosità e la ricerca incessante che deve sempre accompagnare perché siamo tutti continuamente in formazione. Il dottor Filippo Sanchini, notaio, a lui chiediamo è possibile portare innovazione in un mestiere che viene considerato un mestiere antichissimo e ormai molto consolidato come quello del notaio? Guardi, in realtà sì, assolutamente. Le parlo anche da referente dell'informatica del distretto notariele di Peso Urbino e oggi il notariato è molto attivo in questo senso. Pensate, per esempio, che oggi è possibile costituire SRL su sta responsabilità limitata online quindi con le parti non in presenza è possibile fare verbali di società a distanza quindi direttamente videocollegati con le parti videoconferenza e quindi il notariato si sta molto attivando in questo senso. Con Luca Montini che apparentemente è incaricato semplicemente di promuovere un city brand promuovere un city brand potrebbe essere come promuovere un qualunque marchio ma in realtà è anche da lui attesa l'idea dello sviluppare questa competitività del territorio per cui prima bisogna svilupparlo e poi bisogna promuoverlo un compito non facile, soprattutto a Pesaro. Un compito non facile, soprattutto a Pesaro ma a Pesaro in realtà è un city brand molto forte molto significativo anche grazie alla nomina città creativa UNESCO della musica ottenuta nel 2017 e quest'ultima grande sfida che ci attende di Pesaro 2024 capitale della cultura. Rocco Perrotta responsabile della performance dell'Empoli Calcio la performance vuol dire mettere comunque in gioco una squadra e fare in modo che questa squadra performi al meglio per il pubblico per cui da una parte si lavora sugli atleti, sui calciatori e dall'altra si pensa al pubblico è un ruolo importante, non è solo un ruolo legato all'aspetto atletico è un ruolo quasi sociale. L'allenare nel calcio è una cosa seria è una cosa che abbiamo la responsabilità nei confronti di giovani atleti e del pubblico pagante di dare loro i mezzi per poter performare nel modo migliore per avere poi al tempo stesso una sorta di ritorno nei confronti del pubblico che è pronto lì a sostenere e a pagare per poter vedere appunto gli atleti performare. 20 associazioni della provincia di Pesero Urbino si ritroveranno domani alle 18.30 in piazzale Lazzarini di Pesero per un sit-in silenzioso per la pace al cospetto dell'escalation di violenza in Israele e Palestina. Un gesto di sforzo per la pacificazione e la mediazione di dialogo per manifestanti che parteciperanno senza vessilli ma solo vestiti a lutto di nero e con i colori della bandiera della pace. La Casa delle Tecnologie Emergenti CTS Square di Pesero è stata premiata a Genova con il riconoscimento speciale FERPI alla settima edizione del Premio Nazionale Innovazione e Sviluppo Next Generation. Il premio ricevuto dal Sindaco Ricci e dall'assessora Franco Ellucci è stato motivato dal contributo determinante alla diffusione della cultura e dell'innovazione delle tecnologie emergenti grazie alla creazione di un centro tecnologico che ne supporta la ricerca e la sperimentazione. Sabato 28 ottobre l'impianto sportivo pesarese di Via dell'Acquedotto ospiterà il Janvoia Festival organizzato dal Comitato Wisp Pesero Urbino. Dalle 10.30 di mattina fino a sera una lunga giornata di skate contest, DJ set, breakdance, artimiste, pump track in MTB e giochi tradizionali Wisp, attesa la presenza di numerosi skaters da tutta Italia. E prosegue il concorso del 76esimo Festival Nazionale d'Arte Drammatica GAD, la cui premiazione si terrà domenica 29 ottobre alle 11 nella Sala della Repubblica. Domani invece alle 21 al Teatro Rossini andrà in scena 9 giorni, scritto e diretto da Massimiliano Giacometti per Teatro Villaggio Indipendente di Settimo Torinese con protagonisti Giuseppe Caradonna e Renato Cavallero. Domenica 29 ottobre invece le telecamere di Rossini TV si accenderanno su una escursione storico-culturale alla scoperta delle colline tavugliesi. L'iniziativa promossa dall'assessorato al turismo di Tavuglia prenderà le vie alle 14.45 con ritrovo al ristorante La Vecchia Strada. Da lì i partecipanti si incimenteranno in un percorso di 6,5 km in direzione Picciano per poi salire verso Pirano passando fra bellissimi vigneti. Tre che in Tavuglia che potrete poi vedere in uno speciale che Rossini TV trasmetterà la prossima settimana. E andrà in onda invece martedì 31 ottobre alle 21.20 lo speciale di Rossini TV dedicato alla terza edizione dell'itinerario archeologico di Confcommercio Marche Nord. Una guida che è stata presentata ieri a San Lorenzo in campo e che vi illustriamo in questo servizio. Aveva già condotto in viaggio fra i tanti affascinanti tesori dell'antichità posti sull'antica via Flaminia, dai bronzi di Pergola alla Fano Romana fino a Forum Sontroni passando per Piagge Saltara e la stessa Pesaro. Ora l'itinerario archeologico di Confcommercio Marche Nord legato al più ampio progetto promozionale degli itinerari della bellezza si presenta con una terza edizione come tre sono le novità archeologiche inserite nella nuova guida presentata al Teatro Tiberini di San Lorenzo in campo. Abbiamo la fortuna di avere all'interno della rete dell'itinerario della bellezza l'antica consolare Flaminia, la strada che collegava Roma a Rimini e tutti i comuni che fanno parte dell'antica Flaminia sono all'interno dell'itinerario della bellezza. E' per questo che abbiamo realizzato una nuova edizione di questa guida proprio per l'inserimento anche del comune di Cantiano che è il punto di inizio nella nostra provincia dell'antica consolare Flaminia. Cantiano ha importanti reperti archeologici che sono all'interno dell'antiquarium del museo archeologico di Cantiano ma soprattutto il territorio è molto ricco di ritrovamenti dell'epoca romana a cominciare dal ponte Riccioli che è veramente straordinario e una bellezza incredibile sulle montagne sopra Cantiano. Poi la nuova guida completa l'offerta del territorio con l'antiquarium, il museo archeologico di San Lorenzo in campo dove oggi presentiamo la nuova guida all'interno di questo splendido teatro dedicato a Mario Tiberini e poi abbiamo anche alcuni inserimenti, alcune novità. Il nuovo museo archeologico Oliveriano di Pesaro che è stato inaugurato nel dicembre dello scorso anno e poi la novità, la rete museale della via Flaminia che è questo progetto che ha realizzato la regione Marche prevedendo la nomina di sette direttori di rete all'interno della regione. Noi abbiamo la fortuna di avere con la dottoressa Lani una direttrice molto competente che mette insieme, guarda caso, tutta l'offerta turistica e archeologica dell'itinerario della bellezza e del nostro itinerario archeologico. È molto importante per noi anche essere entrati nell'itinerario archeologico perché l'itinerario archeologico è molto vasto e comprende luoghi di tutta la provincia, a maggior ragione comprende anche noi che siamo tutti i luoghi e i musei che raccontano l'antica via Flaminia, appunto da Fano fino a Cantiano. Fare sempre più rete sia all'interno della città con le tante istituzioni della città di Pesaro ma anche e soprattutto con il territorio. Creare una possibilità e un'occasione per cittadini e turisti proprio di conoscere il territorio nel suo insieme. Quindi dal mio punto di vista, ma credo non solo dal mio, è importantissimo avere degli strumenti che rendono sempre più facile anche conoscere la ricchezza del territorio e la rete del territorio. Noi qui siamo a tre chilometri dalla antica città romana di Suasa. Abbiamo un museo archeologico del territorio appunto di Suasa qui in Palazzo della Rovere che è al di sotto di questo straordinario teatro che abbiamo alle nostre spalle e tutta la provincia in realtà, basti pensare al passaggio della via Flaminia, quindi tantissimi luoghi dove l'archeologia è protagonista. Ma non solo dobbiamo sottolineare che abbiamo tante bellezze, dobbiamo preservarle e dobbiamo mostrarle ai turisti, ai visitatori, a coloro che fanno in modo che tanta gente possa arrivare in questo territorio. Quindi il nostro dovere come amministratori penso sia proprio quello di affiliarci come abbiamo fatto noi a Confcommercio per fare in modo che questa promozione venga fatta in maniera professionale e corretta perché è inutile tenersi dei tesori e non mostrarli all'esterno. E concludiamo con alcune notizie di sport perché mentre vi parliamo è in campo la Vispesero a Pontedera nel turno infrasettimanale cominciato alle 18.30. Invece domani alle 20.30 torna in campo Little Service sul terreno amico del Palamegabox di Campanara. A Pesero arriverà la Fortitudo Pomezze e dopo le due sconfitte consecutive rimediate in trasferta fra Eboli e Treviso, Little Service punta al rilancio davanti ai propri tifosi. E si chiude qui il nostro spazio informativo di Rossini News. Subito dopo il nostro Tg alle 20.10 vi porteremo a conoscenza della San Marino Outlet Experience, appuntamento come detto alle 20.10 che precede il classico appuntamento del giovedì sera, quello alle 21.20 con la diretta di Insieme a Canestro. Altro approfondimento sulla vuela cura di Elisabetta Ferri che avrà come ospiti di questa puntata. Il presidente della Carpegna Prosciutto Basket, Pesero Ario Costa, è l'ex giocavatore della VL Minelli, come sempre alle 21.20, come sempre con la possibilità di interazione in diretta con voi tifosi, telespettatori, al numero Whatsapp che vedete in grafica 370-366-7210. E poi come sempre l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 in diretta con Buongiorno Rossini. Vi aspetto appunto per andare a conoscere le prime notizie sui giornali per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 27 ottobre. E si chiude qui invece lo spazio informativo di Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Rossini TV.